Ciao ragazzi, qui Lorenzo Miglietta di Grafigata.com e in questo video voglio finalmente risolvere una grandissima diatriba nel mondo del graphic design ovvero si dice un font o una font? Eh sì, perché noi graphic designer, visto che non abbiamo tante cose di cui discutere non abbiamo discussioni, non lo so, sulla teoria delle string o cose del genere come ad esempio i fisici di Big Bang Theory ma noi discutiamo sulle cose assolutamente stupide quindi discutiamo ad esempio sul fatto se si dica il font o la fonte quindi se la parola font sia una parola maschile o femminile Piccola premessa, prima di iniziare io ho sempre detto e continuerò a dire il font, un font e quindi font al maschile quindi se tu la pensi in modo diverso ti chiedo di guardare tutto il video sentire che cosa ho da dire e se poi la penserai ancora diversamente magari lasciami un commento qua sotto e spiegami il tuo punto di vista prima di andare a cercare di capire come si dice perché si dicono in entrambi i modi eccetera eccetera bisogna un attimino cercare di capire che cosa vuol dire font che cosa vuol dire la parola font perché molto spesso si utilizza la parola font come un'alternativa come un sinonimo della parola carattere in realtà sono due concetti completamente diversi all'interno della grafica perché un carattere è sostanzialmente una lettera cioè una lettera, un numero, un punto esclamativo, un segno di interpunzione qualunque è ogni singolo carattere appunto poi c'è il carattere tipografico che è l'insieme di tutti i caratteri costruiti con la stessa coerenza visiva quindi ad esempio l'elvetica è un carattere tipografico mentre la lettera A dell'elvetica è un carattere il font invece è un'altra cosa non è un'alternativa, non è un sinonimo di carattere tipografico il font è lo strumento il font era una volta proprio il pezzettino di piombo che veniva usato per stampare la singola lettera sul foglio e oggi il font è sostanzialmente il file quindi l'elvetica è un carattere tipografico mentre elvetica oblique bold è un font ovviamente bene, fatta questa distinzione andiamo a cercare di capire perché si dice font perché li chiamiamo font allora, font sostanzialmente molto spesso si pensa che sia una parola inglese e in effetti è arrivata a noi sia dal francese che dall'inglese perché infatti è una parola di origine francese e proprio è da questa doppia origine all'interno dell'italiano che viene questo anche doppio utilizzo del genere si utilizza il femminile molto spesso quando la trasposizione è ereditata direttamente dal francese e si utilizza il maschile quando invece la parola è ereditata direttamente dall'inglese perché la parola font in francese scritto come fonte significa sostanzialmente fuso e infatti era una parola che voleva dare un nome a quel punzone metallico che si utilizzava proprio per stampare quindi quei pezzettini di piombo che si utilizzavano nella stampa caratteri mobili in Francia li hanno chiamati font ovvero piombini fusi e la stessa parola poi è stata traslata all'inglese è diventata font senza la E finale e da allora è sempre stata usata nello stesso modo per indicare lo stesso concetto del francese in italiano invece si sono usate tante parole diverse nel corso dei secoli all'inizio si usava il punzone metallico come parola semplicemente poi quando i font sono diventati un po' qualcosa di diverso allora si è iniziato a prendere le parole dall'estero e si sono iniziate a prendere diverse parole principalmente inizialmente dal francese visto che erano stati i più furbi a determinare delle parole ben precise per definire dei concetti ben precisi quindi ad esempio si era presa la parola font e anche la parola polizza derivata dal termine police de caractere che sostanzialmente significava significa tuttora e viene usato tuttora come modo di dire carattere tipografico quindi comunque anche la polizza in italiano indicava semplicemente il carattere tipografico mentre il font continuava a rimanere una cosa diversa infatti venne tradotta male la parola francese font e venne tradotta in fonte e quindi per un sacco di tempo in italiano c'è stata questa grande incomprensione la parola font francese che in realtà significava fuso venne tradotta male in italiano come fonte e quindi per un sacco di anni molti designer, molti grafici, molti tipografi italiani hanno utilizzato la parola fonte per definire il file o lo strumento per rappresentare e riprodurre i caratteri tipografici e questo in realtà è un grandissimo errore e tutto questo utilizzo del doppio articolo deriva da questo grande errore di traduzione ovviamente fonte è una parola femminile e quindi si usava la font, la fonte perché invece tutte le volte che le parole dall'estero vengono importate in italiano di solito assumono il genere della traduzione di quella parola quindi è il motivo per cui noi diciamo il computer cioè il calcolatore oppure la email, la mail per dire la posta elettronica o qualunque altra parola di questo tipo il termine fonte usato al maschile deriva dall'utilizzo della parola in ambito informatico e infatti i primi utilizzi di questa parola arrivano dagli anni 80 quando arrivò il Macintosh sul mercato che aveva per la prima volta la possibilità di scegliere i font dalla tendina dei font e da allora il termine fonte in ambito informatico anche in Italia è sempre stato maschile sempre perché è stato sempre tradotto erroneamente come carattere quindi traslato alla parola carattere nessuno utilizza la parola pollizza o fonte proprio perché non hanno il minimo senso in italiano usate in quel modo e anche se erroneamente viene tradotto in quel modo quindi fonte è una parola maschile per innumerevoli motivi prima di tutto perché appunto non significa fonte e poi perché la traduzione in italiano significa viene usata come carattere visto che comunque poi andando ad approfondire la parola font in italiano non ha una vera e propria traduzione è il motivo per cui usiamo quella parola lì allora come tutte le parole straniere che non hanno una traduzione diretta in italiano si utilizza il genere neutro e il genere neutro in italiano è il maschile quindi la versione corretta è il font poi come scrive l'Accademia della Crusca le versioni corrette delle parole, della grammatica e della lingua italiana non esistono perché l'Accademia della Crusca non è un'istituzione che decide come deve essere la lingua come ad esempio invece avviene per non mi ricordo più quali istituzioni per lo spagnolo, per l'inglese, per il norvegese e altre lingue che hanno proprio un'istituzione statale, nazionale che decide quali sono le regole di inglese le regole di spagnolo le regole di norvegese, eccetera, eccetera noi in Italia non abbiamo un'istituzione del genere abbiamo l'Accademia della Crusca che serve a... che è un istituto che serve sostanzialmente a studiare l'evoluzione della lingua e l'evoluzione della lingua è basata sull'utilizzo che le persone fanno di quella lingua quindi se da domani tutti quanti iniziano a dire la font la font diventa corretto mentre se tutti quanti iniziano a dire il font il font diventa la versione corretta semplicemente perché l'italiano viene fatto dal utilizzo viene fatto dall'utilizzo comune non viene fatto dalle regole imposte dall'alto ma dall'utilizzo comune quindi è una lingua dal basso sostanzialmente ed è proprio per questo motivo che dobbiamo smetterla di dire la font di dire font al femminile perché è sbagliato deriva da una traduzione sbagliata negli anni 50 e 60 e inoltre è anche brutto, cavolo, da vedere quindi d'ora in poi cerchiamo un po' tutti quanti di usare il termine il font cerchiamo di utilizzare il maschile perché è il termine più corretto ed è il termine più sensato non ha veramente più senso discutere su una cosa che secondo me è veramente, veramente ovvia comunque questo qua è il mio punto di vista se tu la pensi in modo diverso o se hai dei dati, degli studi, delle ricerche che dimostrano che comunque quello che ho detto è sbagliato o ci sono delle cose che non ho considerato mi raccomando lasciami un commento qui sotto se invece sei interessato a scoprire di più sul mondo dei font sul mondo della tipografia e studiare come utilizzare la tipografia come utilizzare i font per fare dei progetti grafici migliori ti consiglio di andare a dare un'occhiata al mio corso font ninja si tratta di un corso misto pdf video lezioni diviso in 7 moduli che ti porterà a essere un vero font ninja molto bene se questo video ti è piaciuto mi raccomando schiaccia quel pulsante dei mi piace proprio come un martelletto fai in modo che tipo sai quei punzoni della stampa caratteri mobili lascia un commento qui sotto e mi raccomando iscriviti al canale e schiaccia la campanellina quella lì per avere la notifica ogni volta che posto un nuovo video perché d'ora in poi cercherò di postare almeno un video ogni settimana ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao ciao